Finalmente la strada dei libri passa da Miramare e da Trieste. Abbiamo portato i libri fuori dalle biblioteche, fuori dalle aule scolastiche, all'aperto, in un luogo meraviglioso e unico nella nostra regione, come è l'area marina protetta di Miramare e il parco del castello di Miramare. Assieme a Damatrà, ideatore della rassegna La strada dei libri, passa da parchi e giardini, che si svolge nell'ambito del progetto regionale di promozione della lettura Leggiamo 018. Il Centro per la salute dei bambini e soprattutto i volontari triestini di Nati per Leggere hanno proposto a bambine e bambini, a ragazze e a ragazzi tra i 0 e i 12 anni, letture, storie e racconti davanti al mare. Le famiglie del villaggio per crescere di Trieste hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa e sono stati tanti i bambini e le bambine che hanno partecipato. Hanno potuto anche vedere il furgoncino drago della libreria Libri Belli, la libreria dove i libri non si comprano e non si vendono, che ha proposto una mostra di libri a tema marino. Naturalmente ricordiamo che siamo stati ospiti graditissimi sia della riserva marina protetta di Miramare, sia del parco del castello di Miramare che ringraziamo per l'ospitalità. Grazie per la visione!